musica 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 io vorrei due chitarre qua ci fai sotto quella poi la rimandi come due che si dà la risposta perché lavorare attraverso musica 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 Ero qui riprendita 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 questo era un altro di questi riti qua grazie a tutti è quello di Dylan di Rolling Stone signori vi saluto ciao grande ciao 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 ciao